Si è concluso nel migliore dei modi l'intervento di soccorso in codice rosso attivato questa mattina alle 11 in via Guglielmo Marconi a Caiolo. Due boscaioli del posto stavano procedendo al taglio di alcune piante in prossimità del bosco quando uno dei due, un uomo di 66 anni, sarebbe stato colpito alla testa da un grosso ramo. Sul posto è intervenuta l'automedica di Areu con il personale sanitario che ha medicato il valtellinese fortunatamente in buone condizioni di salute. Per il 66enne che ha riportato solo alcuni graffi non si è preso necessario il ricovero per fare piena luce su quanto accaduto presente anche il personale della TS della montagna. Solo ieri a Erdona nei boschi di Rogolo un altro incidente molto simile, ferito un boscaiolo 46enne trasportato in ospedale a Sondrio con un trauma da schiacciamento agli arti inferiori.